A che pensi? Massimo si inventa un'avventura. Annetta ha desideri zuccherati. Rosa sta per innamorarsi di Antonio. Mattia è semplicemente felice. Maria è terribilmente gelosa. Elena a volte ha bisogno di stare sola. Enrico ha una musichetta in testa. Anna si sente triste. Lorenzo non vede l'ora che torni l'estate. Amir non è ancora uscito del tutto dal sogno. Laura evade tra le pagine. Luciano si ricorda con tenerezza di quando era piccolo. Guglielmo bolle di rabbia. Nina sogna una passeggiata in campagna. Elvia ha un pensiero per ciascuna. Antonio cerca le parole. Nicola non pensa a niente. Giovanni è preoccupato per il lavoro. Ognuno ha i suoi pensieri, pesanti o leggeri. Perfino io. Ciao. Ciao.